Cari amiche, cari amici di Rosini TV, buonasera a tutti voi. Siamo in studio questa sera qui nei nostri studi di Via degli Abetti di Pesaro per colloquiare amabilmente, come abbiamo fatto in altre occasioni, con il sindaco di Cantiano, Alessandro Piccini. Buonasera, grazie di nuovo per l'opportunità. È un'opportunità in realtà per noi anche, perché conoscere meglio quello che sarà un evento così importante come quello di cui andremo a parlare questa sera, ma poi parleremo di tante cose, con Alessandro Piccini, cioè la Fiera dei Cavalli che a Cantiano si svolgerà l'8 e il 15 di ottobre, due domeniche di ottobre, è una grandissima opportunità per tutti noi che vogliamo poi chiaramente trasmettere ai nostri telespettatori. Sindaco, è una manifestazione bellissima, ce lo diceva prima, 44esima edizione, è nata a metà degli anni 70 e sta davvero raggiungendo un livello di importanza nel settore davvero importante. Sì, esatto. Ecco, credo che ormai Cantiano Fiera Cavalli sia una delle principali fiere di settore. Ecco, a livello nazionale si sta posizionando, come mai era avvenuto prima, con degli riconoscimenti importanti, sia di pubblico che istituzionali, e che credo che sia l'evento più importante in termini di ricaduta economica e di presenze per quanto riguarda la programmazione annuale cantianese. È un evento che nel tempo ha avuto delle evoluzioni importanti, noi siamo quelli che hanno raddoppiato la data di ottobre ed hanno provato anche a lanciare con un enorme successo la prima edizione primaverile, che all'epoca fu un evento di ripartenza dopo il Covid. Che fu l'anno scorso, nel 2022. Esatto, maggio del 2022. In un weekend arrivarono su Cantiano un qualcosa come 10.000 presenze. Ecco, e quello fu un grande evento di ripartenza. Poi purtroppo, ecco, Cantiano è stato interessato da un'altra tragedia come quella dell'alluvione e quindi quest'anno credo che proprio ripartendo da dove eravamo rimasti, Cantiano Fiera Cavalli sarà un grande evento di ripartenza che ci proietterà su una dimensione di nuovo nazionale, di promozione del territorio, ma anche di grande ricaduta economica per le nostre attività. L'ha già detto Sindaco, due giornate, quindi l'8 e il 15, che saranno complementari, ma allo stesso tempo diverso fra loro per quello che riguarda poi lo svolgimento, i contenuti. Sì, esatto. Chiaramente il cavallo farà da traino alla programmazione di entrambe le giornate, quindi chiunque verrà troverà un programma completo in entrambe le situazioni. La prima è caratterizzata più dalla storia dell'evento, quindi ci sarà un focus particolare sulla storia ed evoluzione del cavallo del Catria, quindi questa nostra razza autoctona che non è nostra ma è un vanto per tutta la regione Marche. Mentre la seconda parte la vorremmo caratterizzare in maniera ancora più estrema nell'edizione primaverile come una riflessione sul turismo sostenibile in cui chiaramente l'equitazione, assieme al trekking, al bike, sono elementi caratterizzanti di una valorizzazione del nostro patrimonio ambientale in maniera rispettosa e non invasiva. Mi viene da dire che forse conviene maniere in tutte e due le domeniche. Ancora meglio partecipare sia all'8 che in 15. Esatto, abbiamo avuto che chi veniva all'8, la prima edizione, rimaneva talmente entusiasta che poi tornava la seconda. Quindi noi chiaramente siamo ben lieti che uno scelga entrambi. Peraltro la seconda giornata è incentrata proprio sul turismo, sull'accoglienza, sulla capacità del territorio di Cantiano e di tutta l'area del Monte Catria di essere attrattiva per le persone. E anche questo è un elemento che ha caratterizzato per esempio l'estate, Sindaco, perché tantissime persone, nonostante le difficoltà logistiche, la contessa chiusa, eccetera, in realtà sono volute venire a Cantiano. Esatto, non abbiamo mai avuto un'estate così densa dal punto di vista ecodemografico, del turismo e credo che sia stata, insomma, anche un'iniezione di fiducia rispetto a un paese che in tempi rapidissimi, prima degli aiuti anche istituzionali, formali, ha voluto ripartire. E quindi ecco, tra l'altro il contesto ormai del centro storico si presenta in maniera migliore rispetto a come eravamo, perché chiaramente l'emergenza è stata un'occasione per mettere mano alla riqualificazione dei locali, ad assumere una logica commerciale propositiva, mettere a disposizione quindi eventi, offerte rispetto a dei pacchetti turistici, quindi credo che quando risolveremo ancora i problemi rimasti il paese si presenterà meglio di com'era. In altre parole a Cantiano è successo che le persone si sono rimboccate le maniche, hanno deciso di voler ripartire con le loro forze, ovviamente è fondamentale l'aspetto delle risorse che ancora mancano e che sicuramente dovranno arrivare da un punto di vista pubblico, ma questa reazione della gente, delle persone è stata straordinaria e ha portato appunto al fatto che anche gli imprenditori, anche gli operatori sul territorio si siano presentati al pubblico, ai turisti, in maniera, come possiamo dire, fortissima, in maniera molto molto entusiasta, quindi è anche vero che dalle grandi crisi delle volte escono delle opportunità incredibili. Esatto, non era scontato, non era scontato perché la drammaticità dell'evento, io ricordo che in piazza centrale del paese noi abbiamo avuto 2,35 metri di acqua, quindi abbiamo... Quelle immagini ce le ricordiamo. Esatto, nonostante sia passato un anno che ci sembra ancora ieri, ecco, nell'immaginario, e noi avevamo 60 attività di impresa compromesse, il 70% del tessuto socio-economico del paese, quindi la nostra preoccupazione principale in quei momenti era proprio questa, che si interrompesse la vivacità economica del comune, del territorio, e quindi inevitabilmente sarebbero venuti a mancare i posti di lavoro e quindi residenzialità, sarebbe stata la morte del paese. Oggi invece abbiamo la grande gratificazione, no, per merito magari anche, no, magari, soprattutto di quella vicinanza che ci ha sorpreso e ci ha commosso, abbiamo quasi il 100% delle attività ripartite, e quindi questa è la garanzia della continuità del futuro del paese. I problemi ancora sono tanti da risolvere sul patrimonio pubblico, sui ristori pubblici, però ecco, abbiamo chiara ormai la strada, abbiamo tracciato una strada di ripartenza che senz'altro porterà al paese a ripresentarsi meglio di com'era. Davvero un esempio straordinario, Sindaco, ci viene da qui, dalla città, da Pesaro, da tutta la provincia, di fare i complimenti a chi ha reagito in questo modo a quell'evento così drammatico. Torniamo anche proprio sull'occasione, quindi su questa fiera dei cavalli che sarà fra pochissimo. È una fiera che verrà presentata anche a Roma. E anche, credo, questo rientri proprio nel fatto che Cantiano, in virtù del male che ha subito l'anno scorso, in realtà sia diventato anche qui davvero una luce che illumina tanti aspetti della nostra vita nazionale e verrà presentata a Roma. Esatto, ecco, per la prima volta la fiera e quindi Cantiano riceverà il patrocinio e quindi il sostegno proprio concreto da parte del Ministero del MISAF, dell'ex Ministero delle Politiche Agricole. Quindi per noi questo è un riconoscimento importante al valore della manifestazione che la porta ormai su uno scenario nazionale, perché chiaramente sia dal punto di vista qualitativo che di numeri, ecco, ci posizioniamo ormai su un target elevato, con una particolarità, e questa forse è la forza principale di questa manifestazione, che la distingue dalle altre fiere di settore, chiaramente Fiera Verona-Cavalli, Roma-Caravalli, e che qui non siamo in un padiglione fieristico. Ecco, infatti. Ecco, la manifestazione si svolge in un ettero di superficie all'aperto alle pendici del Monte Cadre, quindi solamente alzando lo sguardo si vede la cima del Monte Cadre. Quindi io credo che la valorizzazione di un animale e tutto quello che si porta dietro, quindi l'indotto agroalimentare, in un contesto di alta qualità come quella sia il fattore vincente di questa manifestazione. Peraltro è stato definito animale, un animale che storicamente è amico dell'uomo, che vive, cresce con l'uomo, sempre è stato questo binomio fra uomo e cavallo, mi pare di capire da quello che mi ha detto che riguarda anche il suo passato. Sì, esatto. Anch'io ho avuto un cavallo, ecco, insomma, non era del Catria, ma provvederemo magari in un futuro prossimo a riavere un cavallo del Catria, e credo che, ecco, solamente chi abbia avuto un cavallo si rende conto del rapporto indissolubile tra cavallo e cavaliere. Ecco, quindi questo rapporto che porta a vivere in simbiosi, un rapporto in cui non c'è un dominatore e un dominato, ma la si vive assieme, non c'è un rapporto di costrizione di un animale soggiogato dall'essere umano. Io ricordo, studiando a Bologna, che nel momento in cui tornavo il cavallo aveva ansia di uscire in passeggiata con me, proprio perché, ecco, si viveva assieme come un momento, appunto, di festa, tra virgolette, quell'uscita e quella cavalcata assieme. Quindi, ecco, anche quell'idea di vedere, no, una modalità oppressiva da parte del cavaliere sul cavallo, io credo che sia ampiamente superata nell'esperienza di chi proprio l'ha vissuto in maniera indissolubile, diretta, questo rapporto con l'animale. Peraltro, al di là della fiera, appunto, che si svolgerà in queste due giornate, a Cantiano è bellissimo, e questo è un consiglio che si può dare al di fuori proprio di quelle date, fare la passeggiata che da Cantiano va a Chiaserna. È una strada che costeggia, peraltro, uno dei fiumi che l'anno scorso cambiarono all'improvviso d'aspetto, ma questa strada bellissima che passa in mezzo alle campagne, sotto al Monte Catria, dove si incontrano cavalli di continuo. Cavalli che sono liberi, che vengono vicino a te, che comunque si capisce che fanno parte dell'ambiente. Sì, esatto, ecco, soprattutto lo si incontrano anche salendo verso il Monte Catria, perché ecco, questo animale ancora pratica un'antica usanza che si chiama monticazione, ovvero il pascolo libero senza recinti, senza costrizioni al monte. Quindi questi animali vivono praticamente quasi tutto l'anno, ormai allo stato brado, a pieno contatto con la natura. Quindi può capitare benissimo di poterli incontrare e, tra l'altro, anche socializzare, perché una delle caratteristiche del cavallo del Catria è proprio di essere estremamente mansueto. Tant'è che è utilizzato sia per circuiti che riguardano l'ipoterapia, ma anche come primo approccio per i bambini. Noi metteremo in scena, dentro proprio i due contenitori, dentro le due domeniche, il battesimo della sella, proprio la possibilità che i ragazzini possano avere il primo contatto fisico con il cavallo e anche montare in sella, proprio grazie alla docilità di questo animale che tranquillamente si fa avvicinare, cavalcare e soprattutto dai bambini. È addirittura la nominata la ipoterapia che è questa pratica, che è una sorta di piccolo rapporto psicologico fra persona, animale, che tante volte risolve anche delle problematiche, delle problematiche esistenziali degli uomini. Esatto, ecco, questo è tutto ancora un percorso da esplorare e su cui insistere, proprio, e credo che la nostra razza del cavallo del catere sia una delle più adeguate, perché appunto Mansueta possa in qualche modo accompagnare anche alcuni disturbi e rendere invece questo rapporto indissolubile tra uomo e animale proprio quasi, dal punto di vista salutistico, terapeutico, rispetto a alcune situazioni. Quindi è senz'altro un elemento e un settore su cui anche i nostri allevatori si stanno orientando. Una domanda di servizio, Sindaco, per così dire. Si diceva che la Contessa avrebbe riaperto a dicembre. Siete a conoscenza del fatto che siamo in linea con i tempi? Sì, ecco, confermo che la struttura ANAS, di nuovo, ribadisce che l'esecuzione dei lavori che sta andando avanti in maniera molto cedere rispetto al cronoprogramma, possa avere ancora Natale come late time dell'intervento. Tra l'altro noi su Cantiano abbiamo chiesto e abbiamo consentito che si potesse di nuovo sfruttare una viabilità alternativa passando dentro il capoluogo per accelerare i nostri cantieri ANAS, perché abbiamo dei lavori sui viadotti di Cantiano che vorremmo, la cui chiusura, vorremmo allinearla alla riapertura della Contessa, di modo che, riaprendo, non si trovano ulteriori ostacoli durante il percorso verso la costa e quindi riaprire assieme i cantieri e ridare quella viabilità a un'arteria che ha tutta la dignità e l'autorevolezza per essere classificata come una delle direttrici principali tra la costa e l'entroterra. Sì, peraltro la fluidità di una strada che scorre bene nella sua interezza è davvero questa è una, come le posso dire, una dimostrazione di grande lungimiranza. Allineiamo i lavori in modo tale che quando si riapre, si riapre per davvero bene. Sindaco, benissimo, noi siamo contenti, sicuramente non mancheremo l'8 e il 15 di ottobre a Cantiano perché è un'occasione da non perdere. Davvero invitiamo tutti coloro che amano la natura, che vogliono trascorrere del tempo in maniera diversa, imparare tante cose a venire a Cantiano in queste due date. Esatto, ecco, noi vi aspettiamo, chiaramente con due giornate piene e densi di eventi. Abbiamo eventi di alta caratura equestri, abbiamo degli artisti internazionali che provengono da Fiera Verona Cavalli, da Roma Cavalli, abbiamo dei Guinness World Record rispetto a alcune professioni, il battesimo della sella, la gara di boscaioli, la dimostrazione dell'utilizzo dei muli da lavoro e più uno spazio collegato all'intrattenimento generale, musica country, giochi per i bambini e soprattutto anche oltre 30 stand legati all'agroalimentare, al paniere dei prodotti tipici, dal paniere di chiaserna, le amarene, la birra e tutti i prodotti di alta eccellenza territoriale. Quindi già sappiamo che si mangerà benissimo. Secondo noi chi verrà da Verona e da Roma, perché ormai si parla anche di sintonia, di sinergia con queste grandi manifestazioni, si troverà benissimo, mangerà benissimo e credo che non rimpiangerà né gli agnolotti né le specialità veronesi. Sindaco, grazie davvero. In bocca al lupo per la manifestazione. Grazie a voi. Buona serata a voi che ci avete seguito. Continuate a restare su Rossini TV e proseguite con i nostri programmi.